Diceva Fabio, diceva Fabio, Colombo è un allenatore che determina, prego a te. Glielo diciamo subito, da studio Fabio Ferraresi dice Colombo è un allenatore che determina. Io ho la fortuna di avere dei giocatori che determinano, questo è, credo che merito vada dato a chi ha costruito questa squadra, poi io la devo indirizzare, la devo canalizzare sia a livello mentale che a livello tattico, ma se non hai gli interpreti che fanno le scelte giuste, che hanno dei comportamenti corretti, tutto diventa più complicato. Quindi io mi prendo i giusti meriti ma so che possiamo migliorare ancora perché, tanto per dire, io sono uno che in questo momento sta pensando a quello che può essere il Pescara in futuro e non quello che è in questo momento. Niente, semplicemente potevamo fare alcune cose meglio, anche nel primo tempo dove, nonostante un risultato ben indirizzato, che aveva dato un indirizzo preciso alla partita, sulle seconde palle in mezzo al campo qualche volta ci siamo fatti sorprendere, soprattutto abbiamo concesso sulla nostra parte destra un po' troppi cross, perché magari c'era una superiorità numerica non ben pareggiata dal lavoro degli esterni offensivi. Ma non mi dica che non è contento. Io cerco sempre di essere coerente perché ci sono delle buone prestazioni, siamo tutti contenti del 3-0, ma ci sono anche delle cose che vanno sempre migliorate perché poi cambiano le qualità degli avversari, cambia il livello e se tu commetti certi errori poi magari li puoi pagare caro dopo. Quindi anche sul 3-0 abbiamo fatto un possesso quasi per gestire e ci sta perché io sono fuori, non corro, non faccio fatica. I ragazzi sanno benissimo che hanno un'altra partita fra 72 ore, quindi era giusto rifiatare, riposare o spendere meno energie. Da parte mia c'era la volontà di fare un possesso con una finalità, che era quella di tenere palla per poi andare a cercare altre soluzioni e altri gol, o comunque per cercare di essere pericolosi, non sicuramente solo per la gestione, per tenere palla. Questo è, e glielo ho detto ai ragazzi, quindi deve passare un messaggio che noi stiamo costruendo e lo dico e non mi stancherò di essere ripetitivo perché oggi noi vogliamo costruire un certo tipo di mentalità e anche quando vinciamo 3-0 è giusto sottolineare eventuali cose che non mi sono piaciute. Faccio qualche flash prima di una domanda da studio di Fabio Ferraresi e Massimo Profeta. Il primo, se ne è accorto che quando c'è stato un lancio lungo di 50 metri lei ha fatto uno stop e tutto lo stadio l'ha applaudito? Sì, ma ho fatto una cazzata, perché ho fatto ripartire l'Andria, quindi dovevo lasciare andare quella palla. Va bene, perdonato Colombo. Torno serio, notazione tattica. Era previsto questo possesso palla continuato dell'Andria nel primo quarto d'ora vicino alla vostra area di rigore per punirli in contropiede? Oppure un po' arrabbiato? Eh no, vedi che ci sono degli aspetti in cui noi potevamo migliorare in certe situazioni, arrivavamo sempre tardi e non eravamo ben collegati con i reparti per fare in modo ideale le uscite difensive. E loro ci palleggiavano, hanno avuto qualche opportunità con un tiro da lontano che ha sfiorato il palo, quindi ecco dove so che si può migliorare. Quindi nonostante il 3-0 so che c'è ancora margine, tanto margine di miglioramento. Una domanda una per il tecnico Colombo. Da parte di Fabio Ferraresi. Salve mister, io prima con Massimo, prima che lei venisse in conferenza, stavo dicendo che magari la coppia in grosso brosco, anche se lei magari nelle sue idee, essendo giocatori simili, non vorrebbe schierarli, credo che alla lunga possa essere una coppia per una squadra che vuole vincere, esperta di categoria, che può fare delle partite insieme, perché oggi l'ha dimostrato che comunque adattandosi anche a delle differenze tattiche, anche di fisicità che hanno, ci possono stare in questo contesto. Lei crede che si possano riproporre come coppia centrale? Assolutamente sì. Noi dobbiamo fare delle scelte. A volte, inizialmente, uno pensa che abbia una caratteristica, un altro giocatore con un'altra caratteristica possano integrarsi meglio. Poi, la realtà, credo che uno che sappia ben difendere e abbia anche delle qualità nell'impostazione, li vorrebbero tutti gli allenatori. Quindi, in grosso, ha un piede pulito. Brosco, sicuramente, non è uno degli ultimi nelle costruzioni. E per come hanno difeso oggi, non ci sono assolutamente problematiche di questa integrazione di caratteristiche. Diciamo che poi, la bravura di un giocatore è quella di saper cogliere eventuali possibilità che gli vengano date per un infortunio, per una squalifica. E poi, farsi trovare sempre pronti, non dico che è un loro dovere, ma può essere un punto di forza per ogni giocatore. Quindi, benvenga, avere tanti problemi di abbondanza e quando si fa la formazione, doverci pensare tanto perché diventa un problema lasciare fuori qualcuno. Grazie. Colombo, l'ha vista la classifica? No.